Visita sorpresa del vice premier Luigi Di Maio alla Treofan di Battipaglia. Il ministro ha raggiunto i cancelli della fabbrica nel pomeriggio di ieri per confermare la sua vicinanza ai lavoratori e l'impegno affinché i nuovi proprietari indiani si siedano al tavolo convocato al Mise. A partecipare alla visita del vice premier anche la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese. Io ho detto chiaramente ai vostri rappresentanti che faremo due cose subito. Una è convocare il prima possibile il tavolo, proprio giusto i tempi di convocazione perché non è pensabile che si vada a fine gennaio come ci veniva a quanto ho capito richiesto dalla proprietà. E secondo che sempre a quel tavolo venga la proprietà. Non abbiamo bisogno né di intermediari né di manager che non rispondono più a questa proprietà. Abbiamo bisogno della proprietà che tra l'altro conosce bene il ministero dello sviluppo economico perché abbiamo seguito altre operazioni economiche in passato. Io ci sarò come ministro e quindi pretenderò che la mia controparte sia la proprietà. In questo modo ovviamente dovranno risponderci. Se tenete presente che in passato quando non si sono presentate le proprietà ai tavoli e c'era il ministro, c'ero io, c'eravamo come ministri, allora dicevo al presidente del consiglio chiamali tu e vediamo se si negano pure a te. Quindi da questo punto di vista la prima cosa che dobbiamo ottenere è sicuramente al tavolo di avere la proprietà e chiedere chiarezza. Dobbiamo chiedere massima chiarezza. Allo stesso tempo io li solleciterò nelle prossime ore a far riprendere il prima possibile la produzione. Come mi è stato chiesto da voi, come mi è stato chiesto da voi. È quello che mi state chiedendo, perché quello rimette in moto anche un'azienda che è sempre stata produttiva, efficace sul mercato e addirittura stava prevedendo degli investimenti importanti per ampliare il proprio pacchetto produttivo. Questo ovviamente fa parte sicuramente di una proprietà che adesso è passata di mano, ma allo stesso tempo quella proprietà che ha venduto, aveva fatto queste richieste, questi progetti di investimento nell'ultimo periodo, non dieci anni fa. Quindi sono sicuro che Gindal voglia mostrare al tavolo e al governo la massima serietà, cioè che questa non sia stata un'operazione di speculazione finanziaria, ma sia stata un'operazione economica, di economia reale, che vuole far sviluppare ancora di più questo territorio. Io lo chiederò da ministro, ma soprattutto a cittadino del sud, perché se poi dobbiamo arrivare sempre al punto in cui si deve preferire uno stabilimento del nord Europa o del nord Italia agli stabilimenti del sud, a me non sta bene.